ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi vi parlo di un po di prodotti per capelli di vari brand tra cui shampora e pomelo dunque shampora che è il primo che ho qui davanti questa è la box eccola qui ed è crea trattamenti personalizzati per i capelli con tutte le tipologie di necessità di richieste quindi per tutti i tipi di capelli si può decidere di realizzare una box che contiene diversi tipi di prodotti detto shampoo balsamo la maschera il trattamento le tinte e qualunque trattamento compilando un questionario per capire quali sono i prodotti più adatti alle proprie tipologie di capello ed anche il colore che si desidera avere se si vuole la tinta ed è quale il colore originale quali sono i colori più adatti alla nostra tipologia di anche diviso comunque per restare su un tipo di colore adatto a noi se preferiamo un tonalizzante piuttosto che colorare e la copertura dei capelli bianchi si può personalizzare tanto si può scegliere ad esempio se avere acquistare i prodotti singoli oppure se avere una box periodica che possiamo scegliere noi quanto ogni quanto tempo riceverla si possono modificare i prodotti ad esempio una volta potete scegliere lo shampoo e balsamo l'altra la maschera un trattamento si possono cambiare e sono sempre personalizzati ok avevamo già ricevuto dei prodotti di shampoo ora ma non avevo capito anche perché non mi era stato spiegato ed è come era questo trattamento adesso invece l'ho capito allora intanto infobox perché ho uno sconto per voi valido senza scadenza 8 euro di sconto sul vostro primo acquisto ed è senza spesa minima trovate il link in infobox per andare direttamente ad applicare lo sconto se non mi seguite anche sulle storie in evidenza di instagram c'è sempre il link cliccabile per andarci direttamente normalmente su nell'info box l'info box qui su youtube guardatelo sempre perché ci sono sempre gli sconti attivi quelli sono gli sconti senza scadenza e mentre quelli che hanno una sconto maggiore solitamente che hanno una scadenza sono nelle storie di instagram perché lì è più immediato e posso toglierle quando è scaduto allora iniziamo a vedere i prodotti perché ho compilato il questionario online sul tipo di capelli ed hanno inviato questa box intanto la prima cosa che vedo è la borsa molto carina le bosse in tela sono sempre molto utili e dopodiché vedo dei prodotti di cui c'è proprio il mio nome sopra quindi sono proprio personalizzati in alcuni c'è il nome in alcuni soprannome che oltretutto l'hanno immaginato loro che fosse così va bene ci sta ci sta ci sta stavo guardando sì in alcuni nomi da quel soprannome c'è anche differenza di colore quindi ed è se non vogliamo leggere cosa è ed è comunque sia c'è ok li ho trovati per mostrarvi comunque sia c'è la differenza di colore partiamo con lo shampoo che è uno shampoo hanno già detto quando scegliete il nel questionario che comunque fate prima guardare attraverso il link potete scegliere anche la profumazione che preferite tra vaniglia cocco fiorito ed è quindi anche questo è una cosa importante allora stavo leggendo e 250 ml c'è anche una data di scadenza perfetto partiamo con lo shampoo che è questo proprio chiuso sigillato e vediamo avevo scelto vaniglia ed effettivamente sa di vaniglia non tantissimo devo dire ma sa di vaniglia allora per caso i capelli bagnati ok questo è lo shampoo 250 ml personalizzato e vi mostro anche il balsamo eccolo qua sempre un 250 ml vediamo se questo buonino allora se volete un profumo forte di vaniglia no magari con durante l'uso durante sotto l'acqua si sente di più poi abbiamo un live in questo dopo il balsamo tamponare i capelli per eliminare l'acqua in eccesso distribuire una noce di prodotto sul punto e lunghezza e procedere l'asciugatura io ho scelto comunque parotti per capelli e fini e senza volume soggetti e sedaneggiati con doppie punte e colorati ok che è questo sempre un 250 ml il profumo al solito il profumo al solito e poi altro prodotto eccolo qua active water questo uno spray da 100 ml agitare bene prima dell'uso vaporizzare su lunghezze 13 anabolizzazioni per massimo tre volte al giorno sa capelli politiche non non lascia residui questo è un volumizzante ecco effettivamente è venuto per capelli fini oddio colore è un po giallo non lo so proverò e vi farò sapere e invece una cosa che aspettate che me lo asciugo una cosa che ho già provato e vi posso dire mi piace assai è la tinta di queste cose la tinta per capelli e ho scelto un altro colore perché quella che su è di un colore ma io non ho scelto un altro questo è il chocolate dark blonde che dovrebbe essere un 6.7 e mi piace questo tipo di tinte biondo scuro cioccolato perché adesso l'altro si può scegliere come archirla quindi all'interno della confezione riuscirò mai ad aprirla e potete scegliere se avere anche un booster da mettere dentro la tinta nutriente ed è quello non mi ricordo cioè nutriente rinforzante protezione cinerantante adesso andiamo a leggerlo che facciamo prima questo è il set vedete questo è la colore questo è ovviamente il developer la crema ossidante queste da 20 volumi e qui abbiamo i guanti e i booster da mettere direttamente dentro al developer quindi è soft and you are olio booster olio morbidezza additivo per tinta è proprio detto e poi azioni idratante sempre additivo per tinta idrati or quindi per andare ad aiutare i capelli a non danneggiarsi troppo durante la tinta e questo devo dire che sono belle coprenti coprono bene i capelli bianchi non colano non puzzano ed è mi piace mi piace molto come tinta a un prezzo un po è un 60 ml al prezzo un pochino è alto devo dire per una tinta però con l'abbonamento periodico si risparmia qualcosa da fare ogni tanto quando vogliamo fare ad esempio una tinta completa quindi non il ritocco della ricrescita o dei capelli bianchi ma una tinta completa da fare ogni tanto ci può stare devo vedere se c'è qualcos'altro capelli mossi medie le spalle colore con i booster ecco qua e 35 minuti il tempo di poso comunque c'è proprio scritto perché partivo da un cioccolato e vado al varadero blonde che è un 6 7 perché mi sembrava troppo troppo allora mettiamo via shampoo che vi ricordo che c'è il codice sconto per 8 euro sul vostro primo ordine senza questa spesa minima mettiamo via tutto comunque sempre il link box formazione e passiamo a un altro marchio che non conoscevo mai conosciuto ma aspettate perché due scatole non so perché un altro marchio bello famoso per prodotti per i capelli questo è pomelo pomelo ha dei trattamenti mirati per i capelli anche in questo caso potete scegliere i prodotti singoli oppure una box e con diversi prodotti ad esempio questo non è un abbonamento quindi potete sceglierli ogni volta ovviamente più prodotti scegliete maggiore sarà lo sconto dunque intanto sembra che il prezzo iniziale di questi prodotti sia elevato si trovo che sia molto elevato la qualità c'è però il prezzo è molto elevato ma attenzione perché spesso e volentieri ci sono dei codici sconto comunque ve li lascio anche qui dove su una spesa di ad esempio 145 euro coupon sconto di 100 euro in questo caso è per diversi prodotti è un prezzo più che ragionevole quindi sembra elevato se acquistate pochi prodotti con lo sconto e poi con il coupon che sempre 100 euro volte su una spesa di 45 una volta sulla spesa di 50 ed è 150 euro o 145 euro vi scontano 100 euro in questo caso di spendere 45 o 50 euro mi sembra una cosa un po più seria allora io non capisco sinceramente perché sono in due box perché sono diverse linee sto cercando di unirle un po io ok allora partiamo senti io che rumore che faccio partiamo con questa perché abbiamo vanilla dream repairing shampoo con confezione vaniglia e cacao confezione da 200 ml super riparante che lascia i capelli più luminosi facci da pettinare ok questo abbiamo detto che è lo shampoo ok come faccia sentire il profumo lo devo aprire non ero preparata a ciò come si aprono queste meravigliose confezioni penso che vi metterò in pausa un secondo e poi dopo cercare di aprire con un'altra confezione ok basta mi metto in pausa ed è spiace a rieccoci allora ha un profumo buono non so tantissimo di vaniglia però buono dolce e della stessa linea c'è anche il conditioner quindi immagino che sia sempre nutriente altamente nutriente riparatore per capelli secchi e danneggiati lasciare agire per 25 minuti ok questa linea fucsia la proverò perché mi incuriosisce e sempre della linea fucsia perché qui va il tutto a linea esatta c'è anche questo prodotto che è vaniglia elixir air serum con vitamina e 30 ml un mix di oli super nutriente con rosa canone vitamina e applicare una tre gocce sulle punte dei capelli asciutti e umidi e procedere con lo styling ok andiamo a vederlo bello bello il fatto anche che sia diversi colori in base al trattamento in modo che uno possa anche ad esempio mixare i trattamenti è trasparente non sa di vaniglia però ha un profumo che mi piace devo dire che mi piace a questo punto del video mentre io cerco di rimettere a posto leggermente i prodotti fatemi sapere se avete provato questi trattamenti e come vi trovate perché intanto io ho trovato anche questo che è proprio fucsia ma è sempre da vanilla vanilla booster pairing eye trattament sempre con ma perché dice vanilla poi cocco e mandor va bene ecco perché non sa di vaniglia trattamento per capelli formulato con il nostro mix di oli personalizzati raffreddare in frigo per 10 minuti prima dell'uso applicare una nocciola di prodotto sulle lunghezze sulle punte lasciare agire per 30 minuti quindi lavare con shampoo e balsamo come di consueto sapete che questo è curioso da provare quindi prima in frigo poi un trattamento prima del prima del shampoo e balsamo ok ingredienti sono solo ingredienti vegetali cosa che mi piace cosa molto importante per questi prodotti non lo conoscevo non ho tutto questo tipo per i trattamenti ma sono curiosa di provarlo ok finito con vanilla andiamo con un'altra linea cosmic cleans color block ok questa è la linea viola shampoo e balsamo che immagino che protegga il colore e dal calore realizzato con fico d'indie pro vitamina b5 dono ai capelli una vitalità cosmica ok completare con il balsamo mi piace già di più anche il fatto che abbia delle confezioni un'apertura più semplificata rispetto a quell'altra perché voglio sentire il profumo ovviamente sa di sapone classico effettivamente non dice davvero un profumo particolare poi andiamo avanti con un'altra linea questa è blu ok bambù defense deep cleansing shampoo con acqua termale e akai shampoo a base di minerali con un altro potere detergente realizzato con acqua termale di bambù akai e zenzero e cosa fa questo e deterge pulisce se pulisce il cuoio capelluto e acqua ok ok e anche questo voglio provarlo e babù defense va a purificare quindi cute e capelli questo ha un profumo di uno shampoo no è un profumo che ho già sentito ed è un qualcosa che ho già sentito nella stessa linea bambù detox dry shampoo con polvere di bambù da 48 grammi mi piace questo perché è una polvere uno shampoo secco senza spray quindi anche per l'ambiente con argilla vulcanica e carbone adatta per capelli scuri nebulizza delicatamente il prodotto a 10 cm dalla cute lascia agire 30 secondi elimina il silvio in accesso ok mi piace che sia per capelli scuri perché solitamente e lascia molta polvere bianca lo shampoo secco che invece io utilizzo tanto andiamo con l'ultima linea formata da tre prodotti peach paradise shampoo balsamo e questo trattamento adesso vediamo allora shampoo nutriente con cocco e proteine vegetali shampoo detergente delicato idratante adatto a tutti i tipi di capelli con miscela di cocco e proteine lasci i capelli puliti nutriti senza rimuovere gli oli naturali sarebbe stato troppo bello se fosse riuscita ad aprirlo subito arrivo ok a rieccoci quindi vediamo un po ho aperto il shampoo a mix davvero pescato fresco mi piace un sacco poi abbiamo il balsamo che quindi nutriente basta mostruose nutriente lasciare agire 25 minuti e andiamo col siero da 30 ml split in seal con olio casto e di ricino e squalene cosa dice di fare siero per capelli senza siliconi formulato con olio di ricino c'era scritto dal commercio eco solidale questo siero lavora per combattere i danni e ridurre al minimo l'aspetto delle doppie punte mi piace già applicare una tre gocce sulle punte asciutti o umidi mi piace già e questo lo provo subito è un po denso a questo profumo fruttato fresco che mi piace un sacco allora a questo punto del video anche perché sono 20 minuti registrato ormai ditemi se vi avete già provato questi prodotti se pomelo vi incuriosisce oppure shampoo ora la differenza che shampoo è completamente made in italy ed è sempre con ingredienti e dei vegetali pomelo è made in realizzato in belgio è un marchio usa però realizzato in belgio quindi per aiutare di più il made in italy oppure meno io li testerò mi piacciono questi prodotti fatemi sapere quale vi incuriosisce maggiormente notate la mia meravigliosa maglietta con le mucche ci sta sempre ed è niente io spero che sia stata utile e vi ho fatto conoscere qualche prodotto nuovo che devo comunque testare anche io quindi vi farò sapere in un video dedicato ed è vi ricordo il codice sconto e fatemi sapere se qualcuno avete già provato quali vi incuriosisce maggiormente e basta io vi do appuntamento al prossimo video ciao